Benvenuti a tutte amiche, benvenuti a tutti amici di Rossini TV, siamo nei nostri studi per un'intervista molto interessante con un personaggio importante della nostra realtà economica e sociale, il personaggio in questione ve lo presentiamo subito, seduto alla mia destra, Alessandro Ligurgo che è il direttore di Confesergenti. Ciao, piacere e saluto tutti gli ascoltatori. Alessandro, sono circa due mesi che tu interpreti questo ruolo, che non si può dire che per te sia nuovo, perché sono tanti anni hai dedicato la vita di Confesergenti, sei stato vice direttore a lungo, però dal primo gennaio del 2022 a tutti gli effetti tu sei la guida operativa di Confesergenti, che lo ricordiamo è la Confederazione Italiana degli Esercenti, attività commerciali, turistiche e dei servizi, proprio per declinare tutto. Tutto. Due mesi, due mesi nei quali veramente si può dire che è cambiato il mondo, ma ci entreremo poi nel dettaglio più avanti. Come è partita questa nuova direzione? Beh, intanto è cambiato il mio mondo, il mio a livello personale, perché comunque l'attività che ho svolto fino a due mesi fa era molto più limitata a quello che era il pesarese, invece da un paio di mesi sono diventato il direttore provinciale, quindi mi devo occupare un po' di tutto l'ambito provinciale. Peraltro parliamo oggi circa, me l'hai detto prima, 2000 imprese associate. Sì, abbiamo un bel parco associati, tutti molto attivi, anzi sto riscoprendo, poi ci ne parleremo dopo, ma sto riscoprendo una parte di associato che fino a poco tempo fa si era un po' sopita, ma la parte attiva, quella bella, quella sindacale, quella voglia di appartenenza anche all'associazione che fino a poco tempo fa veniva un po' anche data per scontata, le cose andavano più o meno bene, nonostante le varie crisi economiche che abbiamo dovuto sopportare negli ultimi dieci anni ormai, però la pandemia prima, quello che sta accadendo in questi giorni, poi hanno dato quel senso di riavvicinamento alla, parlo per me, quindi alla mia associazione, molto molto importante e sto notando tanta voglia di fare, tanta voglia di partire, di ripartire, in questi due mesi ho riscontrato molto forte, molto 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 forte, tant'è vero che approfittando di questo, sono un approfittatore dei miei associati e stiamo facendo ripartire anche in questo caso tutti i sindacati che abbiamo interni, perché Confesercenti è una mamma, è un grande contenitore, all'interno del quale poi si declinano i sindacati di categoria, perché Confesercenti si parla di commercianti, di artigiani, però all'interno della categoria del commerciante abbiamo il ristoratore, il pubblico esercizio, abbiamo il settore della moda e chi più ne ha, più ne metta, fino al commercio online, fino al bed and bread, tutto, c'è tutto dentro, gli ambulanti, non dimentichiamo i miei amici ambulanti, perché io sono particolarmente affezionato a quel settore che è il primo che ho cominciato a seguire a livello sindacale, anzi colgo l'occasione, faccio il ruffiano, colgo l'occasione e saluto il mio Presidente Giovanni Rinaldi della sezione di ambulanti. Mentre il Presidente di Confesercenti ricordiamone Stefano Fiorelli. Pier Stefano Fiorelli che bontà sua mi ha scelto, bontà sua o no, non so ancora se ringraziarlo meno per la scelta, insieme a tutta la Presidenza, ha voluto che io prendessi le redini dopo l'andata in pensione per Etana Grafica, del mio predecessore, che salutiamo anche lui, Giorgio Bartolini. Quindi mi viene da dire Alessandro, c'è una voglia, una necessità di sentirsi parte di qualcosa, c'è voglia di sentirsi proprio insieme, questa parola che viene tanto abusata in certe situazioni, ecco è un momento storico nel quale stare insieme, sentirsi insieme, fa rendere conto alle persone che poi fanno questa scelta, forse di poter intraprendere un percorso più sicuro per se stessi. Decisamente, ma questa cosa è anche reciproca, nel senso il fatto di dover ripartire, di fare anche una piccola rivoluzione interna, di adeguarsi anche a quello che in questo momento siamo un po' così, ma a quello che sarà il prossimo futuro, il mondo sta cambiando con una velocità incredibile e noi come confesarcenti e gli associati nostri sentono questa esigenza, dobbiamo essere al passo con i tempi e se possibile anticiparli, quindi farci trovare pronti fra, non voglio andare troppo in là, fra sei mesi, sette mesi, otto mesi ad affrontare un mondo che sarà totalmente cambiato dal punto di vista economico, ma anche sociale, politico, geopolitico, eccetera. Tanto per dire che adesso andiamo verso l'estate, quindi un momento molto importante per tantissime delle imprese che aderiscono a confesarcenti. L'estate andrà avanti, probabilmente sarà quel momento anche un pochino di, tutti ci auguriamo, di rinascita generale. Ci troveremo di fronte a un autunno che in questo momento è veramente una specie di buco nero, perché fra pandemia che speriamo che sia finita, ma chi lo sa, fra problemi di energia, fra chi sa le conseguenze che saranno relative alla guerra che si sta combattendo in questo momento, quindi bravissimo, hai detto la cosa giusta, bisogna già pensare sei mesi avanti. Sì, sì, è una cosa che poi diciamo, un'impresa che sia un'impresa seria e un minimo strutturata per forza di cose, pensa con un anno di anticipo. Noi dobbiamo essere allo stesso passo, se non ancora più avanti, perché comunque l'impresa va associata a Confesercenti, va in qualche modo guidata, va avvisata dei pericoli e va in qualche modo coccolata, protetta, perché questa è la nostra mission. Esatto, perché al di là dell'aspetto che tu hai già nominato sindacale, quindi contrattuale, eccetera, la grande forza di Confesercenti è proprio quella di offrire in realtà poi servizi, affiancamento, possibilità di crescita e strumenti. Strumenti, strumenti che stiamo mettendo in campo, ne abbiamo già quelli un po' classici che abbiamo già messo in piedi strutturati da parecchio tempo, ma ne abbiamo in cantiere un sacco, abbiamo adesso il PNRR che in qualche modo dovrà aiutare le imprese, noi dobbiamo essere in grado di fungere da intermediari rispetto a queste cose, perché molti bandi poi sono difficili da declinare, presentare le domande, dobbiamo aiutare le imprese anche in questo, quindi stiamo già creando e formando il personale, perché stanno cominciando a uscire questi bandi del PNRR, per aiutare le imprese, quindi chiamare le imprese, qualche volta anche non nostre associate, proprio perché devono essere aiutate, devono essere guidate, ricordando sempre che la rete, che può essere una rete di impresa, ma la rete fa anche capo a un'associazione come la nostra, e fare gruppo aiuta anche a risolvere o perlomeno ad attenuare i risvolti negativi di quello di cui è accennato, arriveremo a ottobre, il gas, l'energia, quanto incideranno su un bilancio di un'impresa, dobbiamo trovare un sistema, noi già ce l'abbiamo, anzi qui abbiamo una bella istituzione a livello nazionale, addirittura partita dal nazionale, abbiamo fatto un consorzio, un nostro consorzio di confesercenti, al quale aderendo assolutamente in modo gratuito, basta essere associate ai confesercenti, si hanno dei gran benefici dal punto di vista della bolletta, un tempo fa, un paio d'anni fa, forse anche qualcosa di più, l'avevamo chiamato ufficio risparmio, perché effettivamente dà delle soddisfazioni a quel punto di vista, blocca il prezzo delle bollette, hanno un bell'ufficio strutturato, bello potente e già a 9 all'interno qualcosa come 10, 12, 15 mila associati, questo a livello nazionale e a livello provinciale direi che già abbiamo dei bei numeri importanti collocati e quindi abbiamo bisogno di essere un anno e un po' avanti per capire anche quello che succederà. Per esempio una questione importante che mi piaceva affrontare con te, proprio riguardo alla programmazione e a quello che poi sarà l'immediato futuro, il cambiamento, ciò che fra qualche, diciamo un anno e mezzo accadrà per esempio per tutte le imprese della balneazione, allora voi vi siete spesi in prima linea per affrontare il discorso della legge Bolkenstein che è quella che determina a livello europeo che vengano fatte delle gare per la giudicazione proprio degli spazi, delle concessioni demaniali, ecco voi vi siete già spesi e avete affrontato e state affrontando insieme alle vostre imprese associate questo snodo che è fondamentale per la loro sopravvivenza. Assolutamente, poi considera che il nostro Presidente regionale è un bagnino, tra le varie attività imprenditoriali di cui a capo ha anche un paio di stabilimenti balneari in quel di San Benedetto, quindi figurati se non ha necessità di intervenire su questa cosa, ma ci siamo spesi tantissimo su questa cosa interfacciandosi con la regione, ma anche con i singoli consiglieri regionali di tutte le parti, perché a questo punto non abbiamo, e Confesercenti comunque non ha una collocazione politica, ma è sindacato, sono sindacato delle imprese, ma in questo caso ci ritroviamo con una sentenza della Corte dei Conti che ci ha dato un'ammazzata veramente terribile, quando fu da poco tempo prima avevamo una legge che insomma regolarizzava le concessioni e in questo caso ha ripreso la Wolkenstein e a questo punto bisogna legiferare, cosa vuol dire legiferare? Cercare di tener conto anche di tutti quegli investimenti, di tutta la fatica, il sudore che viene speso nelle concessioni, perché diciamocelo, quello che è concessione è sabbia, sulla quale poi un imprenditore che è serio ha investito pesantemente, impiantando cabine che non sono dello Stato, ma sono degli imprenditore, lettini e tutto quello di cui poi usufruiamo andando in spiaggia. E che siamo contenti di trovare. Esatto, che siamo assolutamente contenti di trovare. Oltretutto la legge già determina di suo la quantità di spiagge libere che nello Stato ci devono essere, per cui grandi problemi io non ne vedevo prima. Ora c'è una sentenza che va rispettata, perché è una sentenza dello Stato, quindi va rispettata assolutamente come tutte le leggi, però bisogna legiferare. Abbiamo questo anno e mezzo ormai di tempo per poterlo fare, noi ci siamo già attivati tanto attraverso la Regione che può fare, come ha fatto già diverse volte, da capofila proprio la Regione Marche nei confronti dello Stato, per poter arginare quello che in teoria potrebbe essere una catastrofe per centinaia di migliaia di operatori. E non parliamo solo di operatori, ma anche di tutti i dipendenti, tutto l'indotto che c'è dietro, poi le fabbriche che fanno il lettino piuttosto che l'ombrellone, c'è un mondo dietro lo stabilimento balneare che è veramente tanta cosa, tanta economia e fa muovere un bel pezzettino di pil del nostro Paese e della nostra Regione. Io poi mi occupo del Pesarese, già da Gabicce a Marotta abbiamo tantissimi di quegli stabilimenti balneari che in questo momento soffrono della preoccupazione che hanno per il futuro. Cosa faccio per dare un servizio ad Alessandro? Investo, compro l'ombrellone nuovo piuttosto che il lettino fatto in un certo modo, compro i giochi per i bambini, per dare un sollievo al genitore che magari vuole godersi la spiaggia. Lo faccio? Boh, non lo so, è un grande problema. Fra un anno e mezzo che faccio? Quelle cose che ho comprato dove le butto? E allora lì va trovato uno strumento per poter valorizzare la fatica, il sudore, l'investimento economico. L'investimento di vita. La fatica al sudore, intendevo quello, l'investimento di vita perché sono... Vite dedicate. Sì, 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 assolutamente. Poi diciamo il lavoro dello stabilimento balneare, dell'operatore dello stabilimento sembra che sia poca roba, in realtà lavorano, ma lavorano proprio fisicamente tanto. Su questo non ci sono dubbi, ne conosciamo perché abbiamo la fortuna di vivere in un posto di mare, abbiamo amici, quindi sappiamo cosa significa per loro. Cioè quei tre, due, tre mesi che uno crede chissà cosa fanno, questi stanno a grattarsi la pancia per tutto il mondo, non è così, non è così, è fondamentale dirlo perché sono i mesi nei quali si costruisce tutto il resto. Poi è ovvio che magari nel mese di dicembre, di gennaio ci sarà il momento di riposo, ma finisce lì. Ovviamente, perché ognuno ha diritto alle proprie ferie. Dopo è vero, abbiamo, ho letto sui social, ma anche sui giornali, un po' dappertutto, le concessioni costano poco rispetto ai commercianti, questo è vero, ma non è colpa dell'operatore, in questo caso è colpa dello Stato che non ha mai messo mano come sta cominciando a fare adesso perché è obbligato da questa sentenza, dalla sentenza, dall'Europa prima, dalla sentenza poi, è obbligato a rivedere un po' tutto il sistema delle concessioni, del pagamento, perché effettivamente qualche concessione pagava veramente poco rispetto a quello che può essere un affitto di un commerciante o comunque del valore commerciale che può avere quel tratto di sabbia sul quale può impiantare un'attività. Abbiamo parlato adesso di questo tema che rientra comunque in maniera abbastanza diretta su quello che è il grande contenitore del turismo, voi siete stati i protagonisti di un evento di cui Rossini TV ha parlato con lo speciale dedicato a questa borsa del turismo, è avvenuta circa dieci giorni fa e mi pare che sia stata una manifestazione davvero riuscita e di grande impatto proprio per i temi che ha affrontato. Sì, guarda, la borsa del turismo della terza età, per me ormai è BTTE, faccio prima perché è lunghissima se no, è arrivata, mi è arrivata l'occasione proprio i primissimi giorni della mia, dopo la mia nomina, successiva la mia nomina. All'inizio l'ho presa un po' così, man mano che l'organizzavo ho scoperto, mi sono reso conto di quanto potesse essere importante invece una cosa del genere, devo ringraziare anche i nostri partner tecnici in Side Market Live che è una grande organizzazione di tour operator che è aderente a Confesercenti che è stata coinvolta, fortunatamente dico, ringrazio il comune di Pesaro che ci ha dato una bella mano oltre a essere patrocinatore, è stato anche sponsor di questa manifestazione attraverso l'assessorato alla bellezza e al turismo e poi altri due, il comune di Gabice Mare che ci ha dato una mano per quello che riguardava un po' l'education, adesso ti spiego un po' come l'abbiamo organizzata questa cosa e la comunità montana che fa capo a Dapecchio a Qualagna, quindi l'interno. Il nostro meraviglioso interno. Esattamente, l'idea è stata proprio questa, quindi sì, facciamo venire tutti i buyer che sono venuti un po' da tutto il mondo, ci sono stati americani, tedeschi, veramente tanti, non credevo nemmeno io quando ho partecipato poi alle varie riunioni, alle varie manifestazioni che si sono tenute, tanta gente, tanta tanta gente. Tanta gente che è venuta a Pesaro in un momento nel quale effettivamente stava partendo quello che poi ci sta drammaticamente coinvolgendo da un punto di vista per ora emotivo, ecco ma come vedi tu questo contesto generale con anche le speranze, tutto quello che noi stavamo vivendo a livello di ripresa, di ripartenza dopo questi due anni drammatici di pandemia, ecco adesso è arrivata una nuova mattonata. mattonata, allora la mattonata era già partita nel momento in cui si teneva la manifestazione, perché è stata quasi contemporanea, ma nonostante tutto ho visto nelle persone, nei buyer che erano qua una grande voglia di scoprire innanzitutto i nostri territori, perché veramente sono rimasto stupito dai ringraziamenti che poi ho ricevuto da queste persone, quando poi li ho salutati prima della partenza, per aver scoperto delle chicche anche che poca gente sa che abbiamo. In realtà queste vanno… Molto spesso non lo sappiamo neanche noi. Molto spesso non lo sappiamo neanche noi, però vanno mostrate, vanno fatte vedere, Pesaro ha una sua collocazione, abbiamo Rossini, abbiamo tantissime cose e il comune, diciamo anche il nome, quindi sia il sindaco ma anche il vice sindaco, Daniele Vimini sono bravi. Che voi avete riconosciuto fortemente per i suoi meriti a livello proprio di promozione del territorio e lo stavo rifacendo anche in questo momento, quindi sono veramente bravissimi in questo campo a promuovere il territorio, ma abbiamo intorno e abbiamo approfittato un po' anche della candidatura a Capitale della Cultura per far vedere a queste persone tutto quello che abbiamo intorno, dalla straconosciuta Gradara a Gabice con il suo litorale, il suo… la nostra panoramica, la nostra panoramica con il parco del San Bartolo e poi li abbiamo portati su fino al furlo a far vedere questa… il nostro canyon, il meraviglioso canyon che abbiamo con tutte poi le itinerari, i bronzi di pergola, piuttosto che fosse un brono e un giretto anche dentro agli scavi, cioè abbiamo fatto vedere che Pesaro ha tante cose, ha la natura, l'enogastronomia, la cultura, la cultura declinata in tutte le sue forme, dalla musica a tutto e il giorno del saluto finale queste persone hanno riconosciuto questa cosa e pur nella… con lo stato d'animo comunque compromesso, scosso da tutto quello che stava succedendo in quel momento perché partiva lì, la voglia comunque di tornare, la voglia di far vedere alla propria clientela quello che abbiamo qui, ho avuto anche dei bei riscontri dai seller, quindi dai nostri albergatori che erano lì ovviamente per vendere i propri pacchetti, ti dirò la soddisfazione è stata veramente tanta, sono ancora convinto ancora oggi che nonostante tutto pandemia, ma ormai siamo tutti vaccinati, ce la faremo, altre cose mi piace almeno nominare, quella parola che non vogliamo nominare, non la voglio nemmeno nominare perché veramente mi ripugna, la voglia c'è, dobbiamo continuare a vivere, dobbiamo ricominciare a vivere in modo sereno, a divertirci, a stare bene, a goderci… Ed è con questo messaggio positivo che mi piaceva salutarti, salutare i nostri ascoltatori, è stata una chiacchierata molto interessante perché siamo riusciti ad approfondire dei temi che molto spesso vengono sfiorati, ma invece è necessario comprenderli meglio, Alessandro grazie di tutto, Confessercenti è sempre al fianco delle imprese che vi aderiscono, ma come hai detto te, addirittura è al fianco delle imprese in generale, perché non necessariamente solo delle imprese associate, questo è veramente un merito ulteriore, Alessandro in bocca al lupo per il tuo prosieguo di direzione. Viva il lupo si dice adesso. Viva il lupo, noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, hanno avuto il piacere di seguirci fino in fondo, li ringraziamo per questo, al prossimo appuntamento con Confessercenti, buona serata a tutti. Arrivederci.